Oggi è possibile trattare l'ernia del disco che causa mal di schiena e lombosciadalgia con tecniche non invasive sotto guida TAC. Queste tecniche sono tecniche in dolore e che determinano la riduzione della sintomatologia in maniera molto rapida. Noi di Spain Solution prevediamo una tecnica di trattamento per ognuna delle patologie della colonna vertebrale. Le principali, quelle che normalmente determinano maggiormente dolore, sono le protrusioni discali e le ernie discali con o senza l'irradiazione sciatica, cioè con o senza il dolore alla gamba. Questo tipo di problematiche non sono sempre la stessa cosa. La protrusione non è una piccola ernia e un'ernia non è una grande protrusione. Sono due patologie distinte. La protrusione è la fuoriuscita della parte esterna del disco, mentre l'ernia è la fuoriuscita della parte interna, il nucleo. La compressione che determina il nucleo sulla radice nervosa determina poi il fastidiosissimo dolore alla gamba. Le tecniche che Spain Solution prevede per gestire non chirurgicamente e in modo indolore le fastidiosissime ernie discali e le protrusioni discali sono la nucleolisi, la denervazione o neuromodulazione a radiofrequenze e la erneolisi laser. Queste tecniche permettono, grazie all'utilizzo della TAC, di gestire la patologia in modo totalmente non invasivo. Il paziente viene posto sul lettino, a pancia in giù, una volta valutata la sede di ingresso corretta, tramite un sottilissimo ago si raggiunge l'ernia e si esegue il trattamento. Il trattamento è totalmente indolore, per cui il paziente avverte pochissimi fastidi, dopo pochi minuti si può rialzare e il giorno stesso tornare alle normali attività della vita quotidiana. Per poter eseguire queste tecniche con la massima efficacia e il minor rischio possibile, è necessario eseguirle sotto guida TAC. Qui a Villa Sandra noi di Spain Solution ci avvaliamo del più potente e avanzato sistema TAC attualmente sul mercato. Considerate che è possibile identificare fino a 0,3 mm, per cui la precisione è estrema e questo permette di ridurre enormemente il disagio per il paziente. Tutte le tecniche che utilizziamo sono assolutamente indolore, vengono eseguite in pochi minuti e non necessitano né di preospedalizzazione né di ricovero, per cui il paziente può tornare tranquillamente a casa propria dopo la procedura. L'ultima evoluzione nei trattamenti non invasivi, non chirurgici dell'ernia discale è rappresentato dal trattamento combinato nucleolisi con ozono e denervazione o neuromodulazione a radiofrequenze. Questa è una procedura che eseguiamo solo noi qui a Villa Sandra, noi di Spain Solution, e che permette da un lato di ottenere una regressione delle dimensioni dell'ernia, mediante la nucleolisi con ozono, che permette la disidratazione dell'ernia. Dall'altro, grazie alla neuromodulazione a radiofrequenze, di ridurre il dolore sulla radice nervosa, neuromodulando la trasmissione nervosa, cioè riducendo la capacità di trasmissione del dolore. Grazie a queste nuove procedure è finalmente possibile liberarsi dal mal di schiena e dalla lombosciadalgia senza intervento chirurgico, in modo rapido e in dolore.